buongiorno ci troviamo con l'ingegner amadeo giuseppe leva che ha appena discusso la sua tesi nell'ambito del master in project management in construction work with bim tesi dal titolo implementazione del processo edilizio con metodologia bim e focus su temi specifici per il progetto di una falegnameria in svizzera siamo con amadeo perché ci racconti qualcosa su questa sua esperienza di master grazie mille professore grazie a tutti fa piacere essere qui perché anch'io prima di iniziare il master ho sbirciato i video che preparavate a seguito delle delle discussioni quindi alla ricerca di opinioni spunti per capire se facesse proprio caso specifico quello che volevo portare avanti è un po l'obiettivo di lo sai che fondamentalmente le tesi sono documenti proprietari e quindi non futuri allievi non avranno accesso agli elaborati delle tesi quindi per capire effettivamente in che cosa consisterà il lavoro hanno a disposizione l'abstract e queste breve interviste esatto e quindi mi interessava anche grazie per darmi la possibilità di portare la mia esperienza considero appunto questo master che ho fatto sia la parte di project management e la parte di bim molto interessante proprio perché i due aspetti secondo me si spostano benissimo a livello professionale quando poi appunto si vuole portare avanti un progetto sviluppato in bim non può mancare la parte di project management quindi questi due aspetti secondo me è molto corretto tenerli insieme ho visto proprio che guardando anche i video questi questo master si rivolge veramente a un ampio spettro di potenziali professionisti perché dagli architetti agli ingegneri di come me agli strutturisti ai progettisti degli impianti adesso che è un po di anni che lavoro vedo proprio che c'è anche richiesta di queste figure sia specialiste sulla modellazione ma anche più in senso lato di gestione dei progetti che diventano sempre più complessi con tecniche ovviamente più raffinate come poi dei processi legati al bim diciamo che si rivolge anche ai progettisti ma che hanno intenzione di diciamo fare evolvere la propria carriera professionale da un punto di vista anche gestionale non è un master rivolto al progettista puro insomma la modellazione si vede ma ha una parte diciamo abbastanza abbastanza contenuta insomma il titolo stesso del master parla abbastanza chiaro insomma si parla di project management e di management insomma quindi è l'aspetto gestionale che la fa diciamo è la parte più importante sì anche se ovviamente come giusto che sia si dedicano anche diverse ore molte ore allo studio di software gli strumenti che ti permettono che permettono poi di lavorare attraverso queste tecnologie infatti è proprio per la molle di ore che bisogna impiegare per un lavoratore diventa importante capire come vuole strutturare questo percorso per me io ho lavorato al cento per cento durante il master ed è stato ovviamente molto molto impegnativo se l'avesse potuto fare da o dopo essere stato studente magari dopo una breve esperienza lavorativa potendomi prendere un anno sabatico per fare il master sarebbe stato solo me l'ideale perché uno riusciva a sviluppare entrare nel dettaglio ogni singola tematica di guardare bene tutti i software se uno lo fa da lavoratore lo può fare però deve io ad esempio ho iniziato a prendere i venerdì alla fine dovevo chiaramente seguire le lezioni c'erano sì 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 ma infatti noi vi lasciamo fondamentalmente liberi di organizzarvi come volete non lo sai benissimo non controlliamo negli eccessi della piattaforma non vi richiediamo una percentuale minima di lezione quindi eh conosciamo le le i vostri grandi impegni che avete e quindi cerchiamo di venire il più incontro possibile è chiaro che se uno vuole sfruttare al cento per cento quello che il master mette a disposizione le ore di lezione sono tante quindi per forza devi dedicare un piacere ma è stato un piacere dedicare il tempo necessario perché erano tutte tutte tematiche veramente interessanti quindi c'è voluto. Grazie Amadeo e allora diciamo come già ti ho detto durante la discussione ritengo la tua tesi molto interessante diciamo che coglie bene l'obiettivo di una tesi di master no quindi quello non di rimanere a livello teorico ma proprio di scegliere un caso studio in particolare cercare di applicare gli strumenti professionali che il master mette a disposizione su questo caso studio o su più casi studi a secondo di come decidete di di procedere tu in particolare hai scelto questo progetto in Svizzera e ci vuoi mostrare qualche diapositiva quelle che ritieni essere le più significative di questo tuo lavoro? Certo volentieri sì sì infatti l'idea è stata proprio quella di mettere in pratica un po' quello che si era studiato e ho scelto appunto un progetto uno dei tanti che purtroppo non è stato possibile sviluppare in BIM quindi abbiamo ho detto partiamo da questo progetto di una falegnameria che geometricamente è abbastanza semplice perché si tratta di una sorta di rettangolo però dietro ci potrebbero essere tantissime cose quindi nella voglia di partire a sviluppare tutte le fasi e vedere dove in tutte le fasi il processo BIM poteva dare un valore aggiunto ho voluto seguire appunto il processo di sviluppo dalla progettazione alla realizzazione al facility management per identificare queste potenziali miglioramenti e il grosso del potenziale di miglioramento passando subito alla parte più interessante secondo me è a livello di sviluppo dei tempi dei costi del progetto la poter mettere insieme quello che è la geometria con quello che sono i tempi e i costi e quello è sicuramente un vantaggio e poi a livello di facility management in futuro secondo me è sicuramente uno dei potenziali più grandi perché una volta che abbiamo il modello preparato possiamo inserire lì dentro tutte le informazioni reali e rendere veramente il modello digitale come un alter ego dell'edificio reale e farlo lavorare per acquisire dati e poter gestire in modo ottimale tutto l'edificio quindi questi aspetti usati secondo me sono molto interessanti sicuramente li porteremo avanti anche a livello di ufficio per proporli al cliente specifico. Sì poi soprattutto in una realizzazione del genere è vero semplice dal punto di vista geometrico ma almeno immagino non sono esperto di fare gli americi magari altro ma dal punto di vista diciamo impiantistico e quindi di facility management è tutt'altro che facile insomma cioè vale sicuramente la pena di investire qualcosa per la gestione futura. Va bene grazie Amadeo ovviamente diciamo mi auguro che gli strumenti professionali che questo master ha cercato di mettere a disposizione sia nella parte di project management che quella di BIMA possano continuare a essere più utili nelle tue attività professionali future. E non vedo l'ora di applicare anche a altri progetti. grazie a presto ciao 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 ciao